buongiorno a tutti da alessandro di 4 v di italia oggi andiamo ad affrontare un argomento un pochino più tecnico e a spiegarvi un accessorio che si monta molto spesso sulle nostre mate jeep parliamo di distanziali questa è una scatola di distanziali è presente una coppia di distanziali in questo caso stiamo parlando di distanziali per wrangler jk e cos'è un distanziale sostanzialmente è un distanziatore un uno spessore che si infrappone tra il mozzo e il cerchio per aumentare la larghezza degli assi questo distanziale un distanziale della quadrate che è un distanziale di ottima qualità e viene fatto con macchina controllo numerico in alluminio e una cosa fondamentale per la scelta all'istanziale scendere il distanziale corretto il wrangler jk ha un interasse calcolato in pollici di 5 per 5 cos'è l'interasse 5 sono il numero delle colonnette sostanzialmente delle colonnette che fissano il cerchio al distanziale stesso e viceversa anche al mozzo e altrettanto qui in maniera proprio assolutamente empirica questa è la distanza che in pollici in questo caso non ho un metro con me misura 5 pollici quindi 5 per 5 e viene riprodotta anche nella parte che serve per agganciare poi il cerchio al distanziale stesso una volta che il distanziale è attaccato al mozzo fondamentale appunto è la scelta dei distanziali perché sul mercato ce ne sono di vari tipi e soprattutto di vari prezzi il distanziale deve essere equilibrato perché se no a posto che dare un beneficio crea un sicuramente un danno in termini di equilibratura e può dare dei problemi quindi il primo consiglio che vi do è scegliere un distanziale di qualità la cosa fondamentale oltre alla scelta del distanziale che si monta per per una serie di motivi allora il primo è quello di portare sostanzialmente lo pneumatico a a filo con con il parafango e quello per una questione se vogliamo estetica ma anche pratica perché allargando l'asse si abbassa il baricentro e la macchina diventa comunque più stabile poi c'è un altro aspetto nel caso in cui per esempio si montassero dei pneumatici maggiorati il fatto di avere un distanziale quindi di allontanare lo pneumatico da puntoni molle e tutto quello che anche il telaio per quanto riguarda la parte posteriore permette l'installazione di pneumatici maggiorati che sono più larghi diversamente si avrebbero dei problemi come si installa un distanziale perché può sembrare una cosa banale ma bisogna pensare che a questo ci sono attaccate le ruote quindi è una cosa che va installata con i dovuti che cerco il criterio corretto il criterio corretto è questo allora prima di tutto qui vediamo già un distanziale installato per una questione di praticità tra l'altro un distanziale non della stessa qualità di questo è il motivo per cui andiamo a cambiarlo che questo tipo di distanza è un distanziale diciamo made in china di bassa qualità non equilibrato che stava dando problemi alla vettura per installare il distanziale una volta che noi abbiamo tolto la ruota ci troviamo la superficie del mozzo la prima cosa fondamentale è quello di pulire tutta la superficie in maniera tale che non rimangano detriti ossido e quant'altro vedere se eventualmente ci sono delle rondelle in questo caso non riesco a farvele vedere sono stati già tolte tra l'altro e che in alcuni modelli di jk permettono di tenere agganciato il disco del del freno che è però nel momento in cui si monta al distanziale non permetterebbero un'adesione corretta cioè una le due superfici non andrebbero a contatto correttamente quindi sicuramente un grosso danno vanno tirate via basta una normalissima pinza un trocchesino in maniera tale che la superficie è pronta per accogliere il distanziale stesso l'alluminio ha un problema che nel momento in cui va a contatto con l'acciaio tende a ossidare e quindi per evitare questo problema magari successivo nel momento in cui i distanziali si vogliono smontare è opportuno passare un leggero velo di grasso ramato in questo modo nel momento in cui un giorno dovessimo andare a smontarli il distanziale non è rimasto incollato dall'ossido che si è formato un'altra cosa fondamentale questa forse la più importante di tutti una volta che noi abbiamo installato il distanziale e abbiamo serato rigorosamente a mano questa non usatela assolutamente un errore enorme perché i filetti sono sono delicati si si stringe con la collerata coppia di serraggio si rischia di spaccare una colonnetta e ribadisco qua ci sono attaccate le ruote quindi una cosa sulla quale non si scherza assolutamente detto questo si usa questo invece che è una chiave dinamometrica adesso non vado a utilizzarla ma per chi ha un minimo di dimestichezza con queste cose sa di cosa sto parlando una volta avvitati a mano i dadi sul che permettono diciamo il fissaggio del distanziale sul mozzo e si si tirano in maniera incrociata quindi prima questo poi questo poi questo poi questo alla giusta coppia di serraggio che nel caso del jk è di 100 libre adesso non riesco a fare la proporzione di newton metri e che comunque è uno degli aspetti fondamentali la coppia di serraggio è un'altra delle cose alle quali prestare attenzione stavo dimenticando una cosa anche questo importante prima di fissare diciamo il distanziale stesso e di inserire i bulloni opportuno dare del frena filetti questo è un frena filetti rosso è presente in buona parte dei kit distanziali di un certo livello qualora non fosse presente nel kit che voi andate ad installare vi consiglio di acquistarlo si trova in qualsiasi brico center non è una cosa complicata questo permette un'ulteriore sicurezza perché perché questi dati una volta serrati non sono più visibili nel momento in cui noi ci montiamo sopra il cerchio non sono più controllabili riguardo al controllo però una cosa fondamentale una volta che abbiamo installato il distanziale stesso è consigliabile raccomandato dovete farlo dopo circa 200 km rismontare il cerchio e andare a ricontrollare il serraggio una volta controllati non ci sono più nessun tipo di rischi e di problemi questo punto è montato adesso qui ha montato questo che è un po meglio e una volta installato su questi dati si calza normalmente il cerchio si segue la stessa logica anche per il montaggio del cerchio una raccomandazione nel caso di distanziale è impossibile farlo a terra perché ovviamente non c'è nessuna possibilità di appoggiarsi quando invece avete montato il distanziale e montate il cerchio il serraggio controllatelo con la macchina a terra cioè date una serrata così istintiva e poi comunque con la chiave dinamometrica ripassate tutti i dadi questi sostanzialmente sono dei consigli che vi permettono di utilizzare un accessorio apparentemente banale ma ma utile per tante cose come dicevo sia esteticamente sia tecnicamente e utilizzare in sicurezza per qualsiasi consiglio riguardante distanziali o quant'altro potete rivolgermi qualsiasi tipo di domanda io sono sempre collegato a whatsapp il mio numero di whatsapp è 338 731 2725 alla prossima ciao 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 ciao